In Alcatast tra le altre cose si fanno anche analisi di alimenti, questa attività è volta a soddisfare le richieste delle aziende che operano in ambito agroalimentare, ma capita anche di soddisfare le richieste di alcuni privati che vogliono indagare su che cosa consumano. Perché le aziende si rivolgono a noi? Ma per svariati motivi, se sono aziende che producono e trasformano, lo fanno per controllare ad esempio le materie prime acquistate, per controllare l'evoluzione del processo e quindi gli intermedi produttivi e ovviamente il prodotto finito. Il prodotto finito che spesso deve rispettare delle norme o dei capitolati piuttosto che dai disciplinari. Ecco quindi che le analisi che si fanno sono volte sia a determinare la quantità di alcuni componenti presenti, sia a determinare la presenza in quantità permessa e consentita dalla normativa di eventuali ingredienti o additivi. Non ultimo, un aspetto molto importante è il controllo della presenza di contaminanti introdotti più o meno volutamente dall'uomo che hanno dei risvolti da un punto di vista igienico-sanitario e quindi sulla salute del consumatore. Un esempio può essere l'analisi dell'acqua. Le aziende alimentari che utilizzano l'acqua nei processi produttivi devono attestarne la potabilità e noi al Catas facciamo questo tipo di analisi. Non è inusuale che anche i privati che consumano dell'acqua di pozzo ce la portino per verificarne le caratteristiche di potabilità. Un altro esempio è dato dai cereali. I produttori di cereali ce li portano non solo per effettuare l'analisi dell'umidità che è un'analisi classica ma anche per verificare la presenza delle cosiddette micotossine, aflatossine, fumonisine e quant'altro che sono prodotte da crescite fungine, crescite di muffe indesiderate e che ne alternano la qualità da un punto di vista igienico-sanitario. Ci sono delle analisi che aiutano anche a classificare gli alimenti. Un caso che si incontra al banco dei salumi è quello del prosciutto cotto. Per potersi chiamare tale deve avere un valore di UPSD che è un acronimo che significa umidità del prodotto sgrassato e deproteinizzato di un certo tipo. Addirittura se questo valore rientra nei termini di legge il prosciutto cotto può diventare prosciutto cotto scelto o addirittura prosciutto cotto di alta qualità. Alcune analisi vengono fatte anche per controllare l'aggiunta di alcuni additivi permessi dalla legge. La legge ne permette l'aggiunta ma per esempio ne limita la quantità massima consentita. Mi viene in mente ad esempio in alcuni tipi di prodotti itici è permessa l'aggiunta dell'anidride solforosa. Ebbene qui si fa l'analisi e si vede se il valore di anidride solforosa in quei prodotti itici rientra nei termini di legge. Sempre nei prodotti itici ad esempio noi valutiamo la presenza non voluta in questo caso di alcuni contaminanti quali metalli pesanti. Alcuni pesci accumulano nei propri muscoli il mercurio e c'è un limite di legge per questo metallo. Ecco che noi qui facendo l'analisi verifichiamo che questo limite venga rispettato. Alcune volte vengono aggiunti in modo fraudolento delle sostanze non ammesse. Un esempio è l'utilizzo di alcuni coloranti illegali in alcuni tipi di spezie. Ecco che qui facendo l'analisi ne verifichiamo l'assenza. Va detto che nelle spezie non facciamo solo questo. Ad esempio un'analisi un po' particolare che effettuiamo è quella della valutazione del grado di piccantezza. C'è stato un signore che si chiamava Scoville che ha creato una scala da degustazione in cui si valuta e si classifica il grado di piccantezza delle spezie. Ebbene qualcuno ha tradotto questa scala organolettica in una scala chimica individuando le molecole responsabili della piccantezza che sono le capsaicine, io valuto le capsaicine e mediante dei fattori di conversione riesco a trovare l'indice di Scoville della spezia piccante.